Parte domenica 19 febbraio presso la sala consigliare del comune di Fragagnano Prevenzione e Salute, una iniziativa dell'amministrazione Fischetti in collaborazione con la ASL di Taranto. Quattro giornate dedicate alla prevenzione, prevenzione dei tumori ma anche dell'arresto cardiaco, quindi abbiamo voluto con la collaborazione dell'amico dottor Peppo Turco organizzare una sorta di convegno scientifico. Quattro appuntamenti con ingresso libero finalizzati alla prevenzione dal trattamento di alcune neoplasie, alcune tra le più diffuse. Inizieremo il 19 con il dottor Pisconti, direttore dell'oncoematologia dell'ospedale Nord e col biologo genetista greco che parleranno del carcinoma, quindi della prevenzione e del trattamento del carcinoma del seno. Proseguiremo naturalmente con il dottor Carriero sulla prevenzione e trattamento delle neoplasie più frequenti a livello cutaneo. Per seguire con il dottor Bazzanelli, direttore della centrale operativa del 118 Taranto e presidente SIS nazionale, parlerà dell'arresto cardiaco improvviso, della prevenzione anche in questo caso. Ci sono dei fattori protettivi. Per ultimo, ma non per ultimo, con il dottor Massafro Roberto che è il chirurgo che dirige l'unità operativa, il direttore dell'unità operativa della casa di cura Bernardini, che parlerà di un tumore molto importante, anche perché la prevenzione è importante come gli altri, ma in questo caso molto importante come quella del seno, che è il carcinoma del colon retto. Ci auguriamo come amministrazione che partecipi tutta la cittadinanza, perché non solo, affinché tutti potremo essere sempre più informati.